salve a tutti ragazzi bentornati e benvenuti sul mio canale e benvenuti in questo primo appuntamento con project zomboid titolo che ho già portato in verità sul canale un po di anni fa e che volevo riproporvi perché comunque hanno fatto alcuni aggiornamenti nel corso degli anni e proprio di recente è uscita una beta pubblica versione 41 dove hanno fatto migliorie sostanziali per quanto riguarda le movenze sia del nostro personaggio ma sia anche degli zombie perché appunto non so se nel caso in cui non l'aveste capito dal titolo il gioco è un survivor con con zombie la grafica non è il il massimo diciamo anche se personalmente piace però non è quella graficona sbaccamascella però il gameplay molto molto profondo in quanto ci sono molte meccaniche che vanno a rispecchiare la controparte diciamo reali sia per quanto riguarda la creazione di tutta una serie di oggetti di meccaniche stesse quando ci facciamo male quando ci tagliamo le le bende che vanno cambiate perché si sporcano la ferita che va disinfettata insomma ci sono tutte cose che bisogna prestare attenzione quando quando si gioca che vanno appunto a migliorare ed approfondire sempre di più il il gameplay l'idea che volevo proporvi nel nel portare il titolo è quello di andare a ricreare diciamo la giornata del del nostro personaggio andando a seguire con il ciclo giorno notte o soltanto il giorno ora vediamo perché non so quanto effettivamente duri in minuti il il giorno nel nel gioco per evitare insomma di fare video un po troppo lunghi e cercare appunto di portarvi questi video oltre a quelli della normale programmazione quindi magari una doppia pubblicazione da affiancare appunti quelle che già ci sono di solito durante la giornata alle ore 15 è uno sforzo ancora maggiore quello che sto cercando di fare perché comunque capite bene che insomma iniziai a portare più di un video durante il giorno è una bella una bella faticata però voglio cercare di ampliare ancora di più le persone che possono venire a contatto con il mio canale e quindi cercare di aumentare sempre di più la nostra la nostra community non farò una sorta di tutorial del del gioco se no veramente andiamo un po troppo lunghi specie per quanto riguarda questo primo appuntamento mi limiterò magari a farvi una carrellata veloce di quello che c'è a disposizione poi magari ve lo spiego strada facendo le varie meccaniche poi se avete dei dubbi e delle domande specifiche magari lasciatemi un commento anche se non sono molto esperto del del gioco non l'ho mai diciamo approfondito molto perché sono meccaniche che come tutti i survival a una certa iniziano a ripetersi dato che non c'è un vero e proprio fine in quanto c'è soltanto da sopravvivere quanto più tempo possibile quindi capite bene che a lungo andare poi le cose da fare non dico che finiscono ma insomma saranno più o meno sempre le stesse quindi un po va a scemare diciamo la la voglia di di giocare però come ho detto prima ci tenevo a riportarlo perché è ancora in accesso anticipato lo trovate su steam anche sugli altri siti ovviamente di decay ma se non ricordo male sui 13 14 euro insomma che non è tutta questa diciamo cifra impossibile e se siete amanti del genere dategli veramente un'opportunità perché è tanta tanta roba secondo me quindi iniziamo subito con con giocatori singolo a piccola premessa con questa build beta quindi la versione 41 non è possibile giocare in multiplayer quindi potete soltanto utilizzarla in single player quindi giocatore singolo qui c'è la possibilità di scegliere alcuni preset del del mondo su come approcciarci abbiamo apocalypse survival builder o sandbox personalizzato apocalypse è diciamo il livello di difficoltà massimo veramente survival è quello che potrebbe essere considerato per magari anche per i nuovi giocatori anche se il grado di sfida è già un filino più alto e builder ovviamente in cui il gioco si concetta principalmente sulla costruzione perché possiamo anche costruirci la nostra base e sandbox personalizzato in cui possiamo andare a toccare quei parametri del del gioco per cucirci l'esperienza un po addosso e poi ci sono tutta una serie di sfide ovviamente il gioco è aperto alle mod io nello specifico ne utilizzo due la traduzione ufficiale italiana anche se non traduce insomma proprio tutto tutto e craft helper che aiuta appunto per il crafting in quanto per una determinata per esempio risorsa ci dà tutta la serie di cose che potremmo fare con quell'oggetto ed è molto molto comodo nel gioco ovviamente c'è la sezione crafting dove vengono spiegate tutte le le varie ricette però bisogna ribandarle a scorrere finché non si trova effettivamente l'oggetto che abbiamo e che cosa possiamo creare con con quell'oggetto mentre con questo con questa mod è molto facile perché si parte dal livello più basso quindi dall'oggetto per sapere che cosa possiamo fare non non il contrario diciamo come ci metta a disposizione il gioco quindi io andrei di modalità survival quindi andiamo avanti qui ci fa scegliere in quale città partire delle quattro disponibili di questa di questa regione tutte quattro volendo si possono esplorare perché sono comunque legate tra di loro nella mega mappa del gioco cioè non è che se ne scegliete una siete vincolati in quella regione volendo utilizzando una macchina perché ci sono anche le macchine per muoversi è possibile andare a visitare anche un'altra un'altra città nessuno vi vieta qui è soltanto per decidere qual è la zona vostra di di partenza io mi butto su riverside qui c'è una piccola spiegazione e poi abbiamo la scelta del nostro personaggio per quanto riguarda i tratti allora possiamo scegliere diciamo dei preset già fatti che quali di vita in base a diciamo alle professioni che stava facendo il nostro personaggio per esempio se non lo teniamo su disoccupato vedete in basso a destra abbiamo punti da spendere un po come un gdr quindi abbiamo la possibilità di spendere otto punti verdi cioè sono i diciamo i tratti disponibili positivi questo non vuol dire che non possiamo superare quel quel punteggio intendiamoci però nel caso in cui andassimo a scegliere ad esempio vi faccio un esempio velocissimo qualcosa che allora manualità ok io scelgo di aggiungere il tratto manualità in questo caso ho utilizzato tutti gli otto punti però posso non so guarda mi piace occhi di gatto che vedi meglio al buio ok quindi raggiungo al tratto in questo momento noi siamo in debito diciamo di due punti e quel livellare dobbiamo sceglierci un malus che sono quelli della colonna sottostante quindi dobbiamo avere due punti di malus per esempio potremmo andare a sceglierci che ne so cotardo ti fa prendere magari no fai più rumore quando ti muovi ok goffo lo aggiungiamo al tratto come malus in questo momento quindi abbiamo riazzerato i punti tra positivi diciamo e negativi e possiamo procedere avanti possiamo partire come vi ho detto prima dai vari preset ovviamente se scegliete dei tratti qua scegliete un preset lui vi aggiunge oltre a quelli che avete scelto voi manualmente anche quelli del preset quindi state sempre d'occhio ai punti anche perché se non li livellate quindi non portate a zero il gioco non vi fa andare avanti con la creazione del personaggio comunque vi faccio vedere andiamo a rimuovere i vari tratti che abbiamo preso e ad esempio facciamo che il nostro personaggio faceva il taglialigna ok in questo caso appunto ci dà abilità quash avere velocità raddoppiata per sfondare porte con asce colpo che nasce più veloce sempre nel caso in cui si riesca a trovare un ascia nel nel gioco però questo ci dà ovviamente una maggiore maneggevolezza appunto praticità con l'ascia una migliore forma fisica e una migliore forza in questo caso siamo pari come come punteggio però ripeto nessuno ci viera di aggiungere altri tratti che a loro volta porteranno altri malus perché ovviamente bisogna tenersi sempre livellato per quanto riguarda il punteggio andiamo quindi a cliccare su avanti qui abbiamo la possibilità di scegliere come creare il nostro personaggio il nome il cognome tipi di capelli il nostro diciamo abbigliamento iniziale anche perché poi durante il gioco ci si può cambiare insomma si possono prendere vestiario magliette cappelli tutto quello che trovate potete eventualmente indossarlo se in condizioni migliori di quelle che ovviamente già avete io lo lascio così tanto nome il cognome va benissimo pure così magari gli emettiamo un po di capelli invece che sta cresta da moichiano no così è pure peggio oddio c'è qualcosa da meno impegnativo tipo così vai così ok allora direi che possiamo iniziare questi sono i tempi della fine non c'era speranza di sopravvivere è bene che già ti dà una scelta ti dice guarda che riuscirai a sopravvivere questa è la storia di come sei morto mi sono dimenticato di vedere una cosa importante nel caso in cui il nostro personaggio vada a morire perché a voi capita creando un nuovo personaggio non si va a riazzerare il mondo perché tornando nella nella zona in cui è morto il nostro personaggio lo ritroveremo sotto forma di zombie con tutta la roba che aveva al suo addosso diciamo e nel caso in cui avessimo comunque creato una base o comunque tenuto del materiale in una casa o in qualche altra cosa la ritroveremo lì quindi comunque sia il mondo effettivamente non è proprio azzerato nel momento in cui andiamo a creare un nuovo personaggio della stessa partita intendiamoci non è che se io esco fuori crea un nuovo save ovviamente il mondo si è riazzerato però quando ci si muore lui ti chiede vuoi creare un nuovo personaggio se si fa sì si utilizza lo stesso mondo di prima con un nuovo personaggio ok allora andiamoci un attimo a mettere allora calma perché ovviamente lui ci ha tenuto un attimo la configurazione di come avevo provato il il gioco allora voi ora non lo vedete purtroppo non lo posso spostare qui in basso sul dietro la mia faccia diciamo c'è un piccolo pannello in cui ti dà una una sorta di di tutorial testuale sulle prime meccaniche perché purtroppo mi rendo conto che forse da questo punto di vista un po carente per i nuovi giocatori potrebbe essere un po complicato iniziare a capire le varie meccaniche e tutto quanto quindi inizia magari che ci si muore abbastanza facilmente come detto c'è un piccolo tutorial testuale vi invito scusate se è la prima volta che giocate a leggerlo perché è molto importante insomma da una infarinatura generale di quello che si sta per per fare mentre per quanto riguarda le varie icone qui in alto a sinistra abbiamo queste vuote sono quelle che ci fanno vedere eventualmente cosa abbiamo nella mano sinistra o nella mano destra equipaggiato quella forma di scatola ci dà la possibilità di attivare o disattivare la visualizzazione di questi due pannelli il cuoricino ovviamente ci dà lo status che è questo qua in basso che a sua volta ci dà varie altre info vedete le varie le varie abilità che si possono per quelle che sono già attive sono quelle già le sono quelle che abbiamo recuperato tramite il nostro tratto distintivo che diciamo che abbiamo scelto all'inizio ma tutte le altre poi si possono accrescere durante il gioco la salute ovviamente la protezione cioè quanto siamo protetti e la temperatura delle varie parti del corpo questa intanto la teniamo su salute la diamo qui in bassa così la potete anche vedere questi due pannelli sono diciamo uno è il nostro inventario di default non li troverete spostati qua a sinistra ma li troverete qui in alto lui tiene diciamo la configurazione delle partite che avete già fatto in modo da insomma lasciarvi un po come spostate le varie finestre questa appunto è il vostro inventario noi abbiamo equipaggiato tutta tutta questa roba e abbiamo anche un portachiavi e si può sia visualizzare sempre come in questo caso ma sia tenendo una spunta qui che c'è una diciamo una sorta di graffette poi cliccando ovunque lui va a chiudersi nel caso in cui magari non abbiate o una schermo molto grande o comunque giocate con una risoluzione un po più bassa quindi vi occupa un po un po tutto lo schema perché si può si rimpicciolire però insomma poi diventa che si capisce molto e quindi magari comodo tenerla comunque attiva però non che sia visualizzata sempre io la sto giocando in in due cap e c'è un po più di spazio mentre che quanto riguarda quella sotto è quella che fa vedere effettivamente cosa c'è intorno cioè se ci fosse qualcosa per terra noi non possiamo cliccare sullo schermo diciamo sulla sul pavimento eccetera per accogliere ma dovremmo interagire tramite il pannellino idemico per quanto riguarda le cose che sono che sono nei figuriferi nei nei vari cassetti eccetera tutto comparirà in questa in questa parte e anche se ci sono magari più cose vicine che si possono controllare diciamo così verranno elencate uno sotto l'altro quindi il nostro personaggio rimarrà fermo e noi possiamo switchare tra una sezione e l'altra per vedere effettivamente cosa c'è all'interno è più difficile spiegarvo la voce che farvelo vedere però era giusto per capire la le meccaniche mentre per quanto riguarda i tre quadratini qua sotto sono i tasti rapidi nel caso in cui volessimo switchare dalle cose che abbiamo equipaggiate perché possiamo equipaggiare delle delle armi diciamo sulla schiena oppure nella parte sinistra o destra delle diciamo della nostra cintura e per switchare velocemente abbiamo questi questi tasti qua sotto che fanno riferimento appunto ai tasti rapidi 1 2 3 della della tastiera oppure li bindate diversamente nelle opzioni ok diciamo che un'infarinatura generale al gioco ve l'ho dato ovviamente possiamo zoomare e avvicinarci purtroppo è capitato che siamo pure nati de notte però va bene meccanica particolare del gioco vedete ora è buio perché comunque noi non abbiamo ancora esplorato quella quella zona nel momento in cui io vedete mi vado a girare diventa un po tutto più più chiaro perché appunto abbiamo scoperto quella quella zona mentre per quanto riguarda invece gli i zombie c'è una particolità nel senso che abbiamo un range di visuale anche per le visuali diciamo intorno a noi non quelle frontali che fanno riferimento agli occhi mi spiego meglio nel caso in cui avessimo uno zombie alle spalle c'è un range che ora non so precisamente quant'è un range visivo in cui non lo vediamo ancora alle nostre spalle ma se ci allontaniamo un po sparisce idem per tutte le altre direzioni l'unico modo per rivederlo è girarci ok questo è molto importante come come meccanica di gameplay perché nel caso in cui noi stessimo camminando tranquillamente diciamo su una strada guardando sempre davanti a noi non ci accorgeremo se effettivamente a pochi passi da noi dietro alle nostre spalle c'è un'orda di zombie che ci sta arrivando dietro la ce ne accorgeremo soltanto quando saranno molto vicini a noi che effettivamente ce le fa vedere perché sennò sarebbe un po troppo difficile che te sbucano da niente dietro le spalle e tu non hai il modo magari di di schivarli però il range in cui si vedono è veramente basso quindi è un'ottima cosa che va a simulare il fatto che effettivamente tu dietro le spalle non vedi anche se effettivamente la di gioco l'hai esplorata quindi capite bene che è molto profonda come tipologia di gameplay una volta capito come come funziona poi uno inizia a ruotarsi un po su se stesso per controllare le le varie direzioni ok allora dopo questa mega infarinatura di gameplay spero sia chiaro ovviamente se avete dei dubbi scrivetemelo nei commenti per quanto possibile vedrò di aiutarvi allora iniziamo subito io dovrebbe essere notte non ben capito sinceramente allora prima di tutto andiamo a controllare e vediamo che cosa che cosa c'è di buono all'interno di questa casa vedete ora come vi stavo spiegando prima ora che abbiamo ci siamo avvicinati al mobile effettivamente qui sulla sinistra abbiamo la il suo diciamo il suo contenuto quindi vi consiglio sempre di tenere perlomeno ha sempre aperta alla schermata diciamo della di prossimità perché almeno avete idea di effettivamente se c'è o meno qualcosa anche questo ovviamente si può chiude come 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 delle altre insomma però forse questa più che più dell'inventare è importante secondo me tenere la perennemente attiva allora qui abbiamo di buono una priscata ovviamente abbiamo anche mi sono dimenticato qui in alto a destra spero che si vede ora abbiamo 1.9 di 14 ovviamente abbiamo un peso massimo che possiamo portare e c'è la possibilità di prendere borse e borsone e tutto quanto per ovviamente aumentare la nostra disponibilità anche per quanto riguarda gli spazi possiamo caricarci ovviamente più del massimo però andremo a rallentare sia nei movimenti ma anche per quanto riguarda anche l'affaticamento quindi va tutta una serie di complicazioni la prima cosa io voglio andare a spegnere sta tv perché fa cacciara allora per interagire per esempio con la tv o anche tutte le altre le altre cose si fa con il tasto destro io ora sto utilizzando la tastiera ovviamente per muovermi però eventualmente si può utilizzare anche lo stesso mouse basta fare tasto destro per esempio cammina verso vedete lui va a selezionare un riguadro ci cliccate col sinistro e lui va va lì se volete utilizzare soltanto il mouse e non la tastiera allora andiamo opzione di dispositivo e andiamo a spegnere perché ok poi ovviamente per tutta le serie di funzioni eccetera e di di attività c'è un diciamo una barretta temporale che compare sulla sulla nostra testa che sta a significare effettivamente che stiamo facendo qualcosa qualcosa importante ovviamente è chi spegnere la tv perché insomma i zombie ci sentono bene ascoltano il nostro odore e quindi bisogna prestare attenzione e cercare appunto di di evitare qualsiasi tipo di approccio finché non si è comunque perlomeno armati allora andiamoci a rivedere un attimo una cosa una cosa importante anche è il diciamo la visuale nel senso che vedete ora lui ovviamente va ad annerire perché questa zona non l'abbiamo non l'abbiamo scoperta in questo caso però nel momento in cui io per esempio mi giro verso la finestra lui ci fa vedere tutta tutta la zona proprio come se stesse a simulare infatti il il raggio visivo dei nostri dei nostri occhi qui c'è già uno zombie che ho visto che si stava muovendo e i zombie poi tra l'altro ci possono anche vedere attraverso le finestre e quindi eventualmente venirci a cercare allora non perdiamo tempo perché appunto uno zombie potrebbe richiamare altri zombie ci prendiamo la pescata per prendere basta che li trascenate veramente da una parte all'altra per quello conviene insomma tenerli perlomeno vicini pisalli scatola ok per fortuna c'è la pescata appunto perché i pisalli scatola sono chiusi quindi senza pescare non potete aprire la la scatola scusate il gioco di parole ma effettivamente è così ok qui in alto adesso lo vedete è comparso un indicatore tra l'altro qui ancora in alta testa possiamo velocizzare eventualmente il tempo questi sono i nostri bisogni o i problemi nel caso ce ne siano bocca asciutta berresti qualcosa ok per bere possiamo bere eventualmente al lavandino comunque qui non c'è più niente possiamo vedere un attimo la libreria vedete poi ovviamente passandoci con il mouse lui ci dice che cosa che cosa fa perché per esempio in questo caso abbiamo due libri pesca pesca intermedia e pesca avanzata ma se non abbiamo imparato c'è anche la pesca per principiante quindi nel caso in cui non abbiamo imparato pesca per principiante non possiamo passare gli step successivi nel caso in cui ci proviate lui dice no boh non capisco quindi perde tempo e non riesce ad andare avanti quindi ci stanno poi ovviamente all'inizio è tutta una questione di scelta tenere tutto non tenere niente prendere solo le cose in indispensabili e bisogna ragionarla bene come come partenza per il momento non non prendo niente io qui allora vediamo un attimo qui ora vedete mettendomi diciamo nell'angolo della della cucina ho la possibilità di controllare tutte queste cose senza muovermi quindi cominciamo dal lui poi va a diciamo a ad illuminare un pochettino quello che stiamo effettivamente controllando figurifero e voto il freezer e voto madonna ok qui abbiamo un canavaccio usalo per sciocarti quando sei bagnato ricorda sempre dove te ne tieni uno vabbè per il momento non ci serve qui ok abbiamo già qualcos'altro e cortalo da burro ok possiamo fare tasso destro qua attack left o right nel caso in cui volessimo diciamo collegarlo alla nostra nostra cintura lato sinistro lato destro oppure possiamo impugnarlo direttamente o con la mano primaria o con la mano secondaria oppure come avevo detto all'inizio utilizzando la mod ci apre ve lo faccio vedere immediatamente questo pannellino appunto che ci fa vedere cliccandoci sopra possiamo fare con il nostro cortello quindi affettare il pane affetta tortino affetta torta faro assi oppure questa qua appunto serve un coltello di burro e per esempio del nastro adesivo per questo è molto molto comodo mi rende conto non vi ho terminato di vedere diciamo tutte le icone ero rimasto al cuoricino quella con il martello è la sezione appunto crafting del presente già nel nel gioco perché adesso per esempio che abbiamo trovato che non so il coltello da burro dovrei non so se mettere coltello no perché qua appunto ci da parte le varie sezioni in generale sopravvivenza eccetera però qua ci dà il risultato finale per quello vi dicevo è più comodo la mod perché partendo da diciamo l'oggetto piccolo ci dà la possibilità di capire che cosa possiamo farci mentre qua dobbiamo già andare o a sfogliarcelo oppure sapere cosa effettivamente potremmo già fare con il con quel cortello quindi si può fare perché ovviamente poi quando si hanno tutti i vari oggetti per creare qualcosa viene illuminato di bianco però con la mod forse è un po più semplice per le prime armi magari capire bene che cosa fare con quell'oggetto e se effettivamente può essere utile in questo caso io lo prendo perché potremmo utilizzarla come arma quindi la impugniamo in maniera primaria vedete lui ora ce l'ha impugnata chiocchiaio e forchetta la scodella potrebbe tornarci comodo ok perché ci sono alcune meccaniche che uno non può non ci pensa perché per esempio la scodella ora ora che c'è la scodella se io facessi tasto destro dalle parti del lavandino posso fare riempi scodella quindi avrei la scodella che ho appena preso riempita di acqua e questo avrebbe essere comodo nel caso in cui dovessi bere capito ci sono meccaniche che di solito sugli altri giochi non ci sono e quindi uno non gli viene naturale andare a ricercare in questo caso per esempio a parte ora non c'ho più la la sete ho leggermente fame però sempre tramite il il nostro qui insomma lavandino possiamo ovviamente bere anche cosa importante però ve lo dico dopo un po adesso c'è sia l'acqua che l'elettricità quindi la roba nei frigoriferi ci sta e tutto quanto dopo un po va via l'elettricità dopo un po va via l'acqua quindi noi dobbiamo essere pronti a queste eventualità perché capite bene poi inizia essere problematica perché ovviamente andando via la l'elettricità tutti i cibi che troveremo all'interno dei intanto avete comparso lo zombetto che è uno di quelli che magari già visto in precedenza il tutto il cibo che all'interno dei frigoriferi potremo trovarlo marcio ma sicuramente lo troveremo marcio quindi non più utilizzabile e quindi bisogna pensare subito a cercare di capire come poter crearsi una fonte di di cibo oppure racimolare il più possibile perché poi c'è la possibilità di fare un generatore veramente è tanta tanta roba questo genere gioco per chi piace questa tipologia di di giochi molto molto profonda ripeto si può giocare anche in multiplayer e con la tranne che con questa versione purtroppo dovresti utilizzare la versione vecchia che di differente c'è soltanto diciamo la come è diciamo creato il nostro personaggio dal punto di vista delle varie movenze eccetera se no il gameplay è il medesimo oppure c'è la possibilità introdotta con questa build dello spin screen sullo stesso computer lo schieno viene diviso a metà e si può giocare con con la con la tastiera e con il con il pad ok quindi fanno fretta perché se nostro tizio qua se per ora sta soltanto graffiando sulla finestra ma alcuni potrebbero addirittura sporgersi e romperla ok mi sto annoiando di credo che sto fermo perché sto parlando quindi allora proseguiamo a vedere la roba abbiamo un altro apriscatole forchetta tazzo ovviamente ripeto come ho detto prima ora non avendo niente non conviene prende tutto tutto quanto perché sennò ci si appesantisce basta ok qui non c'è più niente le porte si aprono con il tasto sinistro oppure potete andare a dalvi un tasto azione diciamo sulla sulla tastiera nel bagno non c'è assolutamente niente ovviamente si possono anche accendere luce questo quadratino che è qua l'interruttore delle luci finché c'è corrente eccolo così finalmente a rotte possiamo diciamo farvi vedere anche un combattimento per combattere una volta che si ha impugnato un'arma si tiene premuto il tasto destro del mouse e col tasto sinistro ok aspetta e si colpisce il problema che ora il nostro carissimo cazzo carissimo diciamo cortello si è appena rotto perché ovviamente non è niente le che diamo un'occhiata veloce perché dobbiamo sparire allora apri finestra ok passo attraverso perfetto chiudi finestra ok ok purtroppo cioè per fortuna la casa era piccolina l'abbiamo girata abbastanza velocemente purtroppo non abbiamo trovato niente di buono il cortello è rotto possiamo trascinarlo o lo buttiamo direttamente per terra o bastava trascinarlo in basso perché ora non ci serve andiamo molto tranquilli vedete questa ora la zona ovviamente lui ci dà un campo visivo dove dove stiamo andando qua ci sono c'è una staccionata qua ci sono un gruppetto di zombie una staccionata e sembra anche una tettoia il problema che io sono senza armi nel caso in cui ecco siamo sprovvisti di armi possiamo metterci diciamo in posizione d'attacco e lui non farà altro che spingere i zombie finché non cadono a terra e volendo potremmo utilizzare i calci per andare a diciamo a spaccagli la la testolina la prescatole non possiamo utilizzarla come arma purtroppo quindi ok allora un po spaventato impavido vedete quello che vi dicevo è che ora non vedo quello che c'è alle mie spalle ma so che ci sono due zombetti che mi stanno a correre dietro l'importante anche non correre per via del rumore insomma quindi questa è chiusa mi rendo conto che ripeto all'inizio potrebbe essere un po un casino vediamo se cazzo c'è dentro ok vediamo se riusciamo ad aprire la finestra apri la finestra dai niente chiusa teoria proviamo a compa con tutte quante apri la finestra ok si è aperta passa attraverso chiudi no merda 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 via e chiudi la porta ok e che cos'è mamma mia no archiatraia vai giù cadi ok stiamo iniziando subito col botto eh ok l'abbiamo ammazzata allora ce n'abbiamo una nella camera da letto allora veloce un attimo vediamo se c'è qualcosa di buono tra l'altro qua c'è ancora sta cazzo di cosa spegni 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 e che fa solo caciara ovviamente e eventualmente la batteria possiamo prendercela la batteria ok l'abbiamo presa ok allora prendiamo un altro cortello purtroppo ci abbiamo solo questo o padella ottimo a padella possiamo usarla come arma perfetto già forse un po' più di resistenza eh teglia rotonda niente cucchiavo lievito tazza vuota pescata cortello ovviamente è facile trovare eventuali doppioni ehm allora questo che cos'è bistecca cotta buono tristezza più due però fame meno 52 allora per quanto riguarda il cibo possiamo come potete vedere a parte mangiare o lo mangiamo tutto subito oppure metà oppure un quarto io per il momento direi un quarto perché qua ci dice che ci abbiamo fame ma non sappiamo quanto quindi vediamo un attimo ok è sparita quindi ne abbiamo ancora un po' all'interno del nostro inventario bisogna prestare attenzione perché dopo un po' ovviamente può andare a marcire e quindi non sarà il caso di mangiarla vediamo se abbiamo altro nel figo non c'è niente nel freezer c'è del gelato ottimo ok per il momento a posto eh ce la siamo vista subito brutto allora cucina per principianti ottimo è un libro che può aumentare la nostra la nostra skill ovviamente possiamo andare a prendere anche le cose che ci sono all'interno del del dello zombie e in questo caso come potete vedere per esempio ci dà anche le varie caratteristiche per esempio di queste scarpe che andrebbero ad aumentarci di 10 le varie le varie difesa e tutto quanto alle varie condizioni insomma tutto tutto questo qua e sia per quanto riguarda anche le resistenze al vento insomma c'è tutta una serie di di cose perché le nostre sono queste sono buone ma sono un po' una sozzeria allora quindi tasto destro indossa lui automaticamente le le switcha ricordatevi che però le cose che abbiamo a parte che mi sa che non ce l'avevo le le schiarpe ah io ero senza schiarpe perché i socks sono i calzini non so le schiarpe ecco perché ecco perché va bene va bene allora perlomeno ci abbiamo quello che schiarpe stiamo a piedi nudi allora ah ma questa è una cosa del bagno allora aspettate allora asciocamano cartigianica cotoni dentificio lenzuolo i lenzuoli sono comodi perché appunto possono essere messi nelle sulle finestre come tende quindi si tirano giù le diciamo le lenzuola e gli zombie evitano di poter vedere all'interno delle case quindi eventualmente capire che siete all'ora interno mi è ancora venuta fame noi abbiamo ancora un po di bistecchia mangiamo sempre un quarto potete anche muovervi quando state mangiando potete solo camminare nel caso in cui correte lui interrompe l'azione allora mo che siamo armati però possiamo aprire la porta infatti già sapevo che c'era il tizio pronto ok ovviamente prestate attenzione perché comunque sia non è detto che lui possa non morder via ok tanto sangue che schizza ovunque allora vediamo un attimo c'è una giacca niente male letter jack ok vediamo da un attimo la indossiamo la mettiamo ovviamente sopra la camicia ok bisogna prestare sempre attenzione anche per quanto riguarda invece la temperatura vedete ora siamo un po accaldati anche perché ci siamo mossi per via della della perché abbiamo combattuto insomma quindi ci siamo ci siamo mossi nel caso in cui però comparisse diciamo il malus della temperatura eventualmente potremmo iniziare a togliere la giacca o altro perché bisogna non stare accaldati una cosa buona ed importante anche il lavarsi laviamoci il viso perché comunque il sangue in sangue infetto insomma è tutta una una serie di cose bisogna tenere molto pulita diciamo la nostra la nostra persona ok abbiamo velocizzato un po il tempo se non ci perdeva un po troppo tempo a pressa sta cosa ok possiamo possiamo uscire da qui questa l'abbiamo sistemata io di solito lascio sempre per lo meno le porte aperte per capire che ci sono già passato perché cosa importante che non vi ho detto la visuale è questa non si può ruotare non si può fare niente si può solo avvicinare o allontanare e di volto non c'è la mappa se la troviamo la troviamo addosso a dei zombie oppure dentro le case idem nel caso in cui trovassimo un orologio allora comparirebbe in alto a destra un indicatore che ci dà ci dice effettivamente che orarie che ore sono e che temperature ci sono in questo momento quindi per il momento ora vaghiamo nel nel vuoto allora proviamo a controllare quest'altra cosa ovviamente gli oggetti hanno non loro è una loro durata non c'è nessuno che sentivo del rumore la padella vedete già è già equipaggiata e basta passarci solo delle condizioni c'è la barretta che via via si sta diminuendo e eventualmente si può anche riparare nel caso in cui vedete riparare a padella ci sarà il nastro adesivo la colla e lo scotch nel caso in cui volessimo fare ci sua stavo spiegando una cosa e non lo so e che cos'è allora per fortuna questa un bel black digital watch e quindi lo in petta lo impugniamo secondario per tanto uguale vedete ora in alto a destra abbiamo l'orologio sono le 20 e 10 e fanno 27 gradi ovviamente ci sono le condizioni climatiche ci sono le stagioni per quello che ho detto il gameplay è molto molto profondo ma secondo me è uno dei migliori per questo per questo genere forse poco pubblicizzare tutto quanto ma ci sono innamorato appena l'ho visto poi ovviamente giocato in più persone sicuramente tanta tanta roba allora intanto vediamo che non fa una brutta fine attenzione qua mi conviene sempre indietreggiare e colpire mai rimanere fermi ok ok sono entrambi morti ora vedete siamo appunto accaldati perché insomma ci siamo mossi e forse tenesse pure la giacca sopra non è proprio una cosa buona quindi rimuovila un attimo lui la tiene ovviamente nel nostro inventario e non è che rimuovila va a buttare andiamoci a controllare velocemente questa questa casa che qua è che caspita è chiusa però ok questo pure c'è un orologio classico e va bene niente di che cosa importante quando aprite le finestre anche se nel primo tentativo vedete fa così e non la apre è facile che se ci riprovate dopo un po si può sapere altrimenti proseguire cosa importante alcune case potrebbero avere l'allarme quindi voi apriete la finestra il momento in cui balzate al loro interno suona l'allarme e vi posso assicurare che non è una bella cosa perché arrivano flotte di zombie attratte appunto dalla ok qua per fortuna è aperta passa attraverso eccolo cioè cazzo io me le chiamo via 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 sentite io me le chiamo ste cose porca troia la cosa è buona perché perlomeno vi posso far vedere subito che cosa intendevo però vedete ora tutti i zombie che si stanno dirigendo parte verso di me perché mi hanno sentito però si stanno dirigendo verso verso il rumore mi sta distruggendo l'orecchia porca tratta quante ce ne sono però non voglio allontanarmi da stazione perché c'era vedete quelli stanno andando ora verso il 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 suono la cosa importante anche nel lavarsi e per quanto riguarda l'odore perché gli zombie possono sentire il vostro odore più passa il tempo quindi quando magari andranno a togliersi l'elettricità e tutto quanto i zombie accrescono diciamo le loro le loro potenzialità e diventano sempre più impegnativi no che adesso siano pochi insomma ecco cioè guardate quanti caspita ne sono ma io andarsene via peccato che qua sembra un piccolo centro commerciale sarebbe ottimo da andare a controllare successivamente voglio solo cercare di trovare un posto in cui poter fermarmi un attimo e salutarvi perché sennò qui veramente andiamo tanto tanto lunghi però è un gioco che non vi da non vi da pace e spazio adesso perché purtroppo è scattata sta cacchio di allarme allora vediamo se riusciamo a quanti ne so qua due ok e non ne arrivano altri dannazione ma sto tornando indietro no via 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 non è una buona idea ovviamente presto attenzione anche a passare attraverso gli alberi tutto quanto che possono rallentarvi quindi bisogna prestare attenzione allora vediamo se riesco ad entrare magari qua dentro cosa importante nel caso in cui le finestre siano rotte così bisogna poi poi dipende se uno ha freddo o meno cosa importante sarebbe togliere i vetri perché nel caso in cui si passa attraverso c'è possibilità che sita e ci si taglia quindi prestate attenzione ok apri finestra buona così passa attraverso chiudi finestra c'è una tizia e chiudi anche la tenda ok vabbè questa ce la sistemiamo o no questo è un tizio quando entrate in una casa che sembra insomma buona per la notte la prima cosa da fare se ci sono e chiudere le tende seconda cosa spegnere i vari dispositivi elettronici perché fanno cacciara ed eventualmente anche andare a spegnere le luci in questo caso eccolo qua qui chiudi tende per fortuna questa è ottima qui purtroppo il vetro è rotto quindi potrebbero entrare malgrado ci siano le tende chiuse nel caso in cui sentissero dei suoni o altro però la prima cosa da fare è spegnere le luci qua dovrebbe essere questo qua ok ovviamente non è proprio buio buio a cazzo se ho scordato questa chiudi tende ok sono le 22 e 20 quindi comunque si è fatta si è fatta sera ok ragazzi allora metto un attimo così in pausa perché se succede qualcosa mentre vi sto salutando è un casino come primo approccio direi che possa anche bastare perdonate la lunghezza però sapete che quando vado a inizio diciamo a spiegarvi le cose poi vado per per le lunghe spero che il titolo vi piaccia come ho detto ora col fatto che comunque siamo andati lunga a spiegarvi magari abbiamo perso tanto tempo ripartiremo diciamo da qui ci faremo diciamo tutto il giorno successivo e anche una parte della notte e andremo avanti così un po come se fossero appunto le varie giornate del nostro del nostro personaggio ce la stiamo già iniziando a vedere un po brutta perché la situazione fuori è molto molto critica devo aspettare magari un attimo che si calmino le acque per potermi poi muovere eventualmente iniziare a sfoltire un pochettino gli zombie che sono qui in zona abbiamo già trovato alcune cosette importanti cioè quel negozio che sicuramente sarà pieno di cose da mangiare e all'inizio avevamo visto quella grata che sembrano essere qualche magazzino qualcosa di importante perché comunque dovremmo iniziare anche a cercare di trovare un punto dove fermarci per iniziare a posare la nostra base di nuovo quindi io vi ringrazio se siete arrivati fino in fondo vi invito se vi fa piacere a lasciarmi un mi piace un commentino a iscrivervi al canale se non l'avete fatto fatemi sapere che cosa ne pensate in descrizione trovate i link a tutti i social network e in alto a testa la i che vi riporterà alla playlist del titolo che in questo caso ha soltanto questo episodio io di nuovo vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao ciao